Arresto per un 34enne di Arzignano residente a Sovizzo. Gli uomini dell'arma di Valdagno sono intervenuti dopo numerosi pedinamenti ieri attorno alle 21.30 nel parcheggio di una chiesa della periferia di Sovizzo, mentre il pusher veniva avvicinato da un 31enne che riceveva la droga. Recuperata una dose di 18 grammi di marijuana, come pure dalla perquisizione domiciliare, altra sostanza stupefacente, comprese anfetamine, oltre a 1.820 euro in contanti provento illecito.